Sì, sicuramente perché alla fine sono piede destro, però per il bene della squadra dove il mister mi chiede di giocare, che sia a destra, a sinistra, centrale o in porta, io eseguisco, l'importante è il bene del gruppo e il bene della squadra, indipendentemente dal ruolo che venga scelto dal mister. 3-0, risultato sul quale c'è poco da dire, Vittorio Annetta da parte del campo in prossimo. Sì, sicuramente abbiamo fatto un'ottima gara, siamo stati corti, abbiamo giocato bene sulle seconde palle, siamo stati concreti in avanti e si vede che in settimana abbiamo lavorato bene e oggi abbiamo raccolto i frutti. 3 persone nella difesa cambiate rispetto a domenica scorsa, un debuttante assoluto come Martinelli, alla fine non era neanche poi così scontato provare subito i dovuti equilibri. No, ma noi siamo un gruppo che vale, partendo dal più piccolo ad arrivare al più grande, indipendentemente da chi giochi, noi ci facciamo trovare sempre pronto e anche questo è ciò che vuole il mister e oggi ne avete avuto la conferma. Nel finale si sono sbloccati anche gli attaccanti, il mister aveva unzecchiato un po' durante la settimana i suoi colleghi che giocano davanti. No, vabbè, le settimane scorse siamo stati poco concreti in avanti, oggi invece, come ti ho detto, lavorando anche bene in settimana, facendo dei lavori appropriati, siamo riusciti a finalizzare quasi tutte le azioni col tiro. Ora che aspetta la capolista che ha sbancato un campo come quello di Materi? Indipendentemente da quella che sia la squadra, noi la andiamo a affrontare allo stesso modo che giochiamo contro l'ultimo, che giochiamo contro la prima, noi non guardiamo la classifica perché in queste categorie, come penso in qualsiasi altra categoria, indipendentemente dalla squadra, ogni partita è una partita a sé. Quindi, come ti ho detto, ci prepariamo in settimana e andiamo in trasferta cercando di sbancare noi loro.